salve a tutti e a tutte e benvenuti a questo nuovo appuntamento dei dialoghi di pandora rivista siamo molto felici di avere con noi oggi carlo ratti architetto urbanista ingegnere e come ama definirsi agitprop di fama internazionale insegna all'mit dove ha fondato e dirige il sensible city lab e anche fondato lo studio internazionale carlo ratti associati alla sua attività professionale ha sempre affiancato una intensa attività di riflessione e di contributo al dibattito intellettuale con contributi a riviste giornali e con la scrittura di diversi libri io qui ricordo solo l'ultimo da cui partiremo nella nostra conversazione urbanità uscito per reinaudi ed è poi in uscita un nuovo libro in inglese di cui poi carlo ratti potrà se vorrà parlarci parleremo ovviamente delle trasformazioni della città a partire da questo libro riferendoci alla tematica della smart cities al ruolo delle grandi città dopo la pandemia al concetto di innovazione e molto altro io vi ringrazio in anticipo per l'attenzione e possiamo iniziare dopo la sigla innanzitutto benvenuto carlo ratti e grazie per aver accettato il nostro invito grazie a voi molto contento di essere cioè riconoscevi di persona è un piacere un onore nostro e io partirei proprio appunto da questo libro cercando di capirne anche la sua genesi è un libro che presenta 14 ritratti di città 14 riflessioni su grandi città globali e quindi chiederei innanzitutto come è nata l'idea e qual è anche il criterio della scelta di queste città che vengono analizzate ma l'idea è nata è nata durante il covid e in un covid tra l'altro in quel periodo non si poteva viaggiare quindi è stata un po' una riflessione appunto sui sui vari viaggi fatti in tante città del mondo e su come ciascun viaggio fosse poi legato a un tema dell'urbanistica contemporanea in fase di discussione in quella città o alcuni temi nuovi anche nati come la città di Parigi oppure il lavoro sull'informalità Rio de Janeiro insomma alcuni temi nuovi nati allora è nata l'idea durante il covid di partire dal racconto della città un po' per toccare temi importanti dell'urbanistica contemporanea e poi anche per in qualche modo mettere in luce i protagonisti di alcune di queste storie le persone che hanno state dietro ad alcune di quelle innovazioni e se vogliamo dal punto di vista del genere possiamo dire è un qualcosa che mette insieme il reportage con appunto un po' di qualcosetta di manuale di urbanistica nel senso che alcuni temi vengono trattati e anche un po' la ritrattistica insomma quindi raccontando chi sono le persone che poi sono state alla base di quei cambiamenti e quindi da questo punto di vista l'inclusione delle città è stata soprattutto su quelle città che negli ultimi anni ero dovuto andare le città che ho frequentato negli ultimi anni e quelle città dove appunto abbiamo lavorato abbiamo lavorato come si diceva prima sia dal punto di vista della ricerca con Sensible City Lab con il gruppo di ricerca all'MIT sia dal punto di vista invece del progetto con Carlo Ratti Associati magari per progettare un nuovo quartiere, un nuovo masterplan, dei nuovi edifici o altro ecco questo insomma è stato un po' l'idea sono tra l'altro nati all'inizio con una serie di articoli pubblicati nel mondo della progettazione quindi in Italia da Repubblica e poi qui sono stati appunto ampliati integrati proprio cercando di mettere insieme questi vari questo cardidoscopio di città che tocca un po' alcuni dei temi importanti sul tavolo oggi per qualsiasi urbanista. Ecco grazie. Lei faceva riferimento alla pandemia in cui si è innescata una riflessione ovviamente molto intensa sul Stato e sul futuro delle città anche alimentando delle aspettative sulla crisi della grande città in un certo modo la fuga verso i borghi ecco queste aspettative si sono realizzate in misura molto marginale o non si sono realizzate ecco quale lettura dà di questo fenomeno e perché in un qualche modo la grande città continua a dimostrare una sua forza e una capacità di resistere e di crescere e di porsi appunto come un luogo dove avvengono processi di innovazione importanti. Sì ma come dicevamo durante la pandemia appunto è stato un periodo di grandi riflessioni e queste sono chiaramente state riflessioni positive. All'interno di queste riflessioni io sono stato forse l'unica voce fuori dal coro c'è stato un momento direi 3-4 mesi dopo l'inizio della pandemia dove tutti dicevano in Italia tutti dicevano soprattutto in Italia tutti dicevano ecco le nostre città sono mai scomparse nessuno vorrà più vivere in città e la mia forse una delle pochissime voci fuori dal coro in Italia l'ho scritto, l'ho detto pubblicamente, l'ho scritto in un paio di articoli dicendo ma guardate che ci stiamo sbagliando tutti, le città, le nostre città hanno attraversato pandemie, guerre insomma eventi molto più devastanti del Covid, pensiamo a Venezia, Venezia nel 1300 perde con la peste il 60% della sua popolazione e quelle nostre città hanno attraversato pandemie, guerre eccetera ancora più devastanti e sono sempre riprese e questo perché la città che è questo bellissimo marchingenio che nasce 5.000-10.000 anni fa in varie parti del mondo che ci permette di trovarci insieme in modo che insieme possiamo essere più di ciascuno di noi individualmente ecco quindi la città con questa sua forza magnetica di attrazione si è dimostrata in passato molto più forte di tutte queste forze invece centrifughe appunto legate a guerre, pandemie eccetera e quindi ecco la mia fune poche voce fuori dal cuore effettivamente come si diceva ci siamo resi conto che è stato così perché oggi continuiamo a vivere in città soprattutto è divertente vedere quegli stessi soloni soprattutto dell'università italiana che dicevano ecco siamo tutti nei borghi che però sono tutti con il loro sedere nelle cattedre delle grandi città delle grandi città del nostro paese in italia o anche o anche all'estero quindi direi appunto la forza che ci tiene insieme nella città che questa forza che appunto ha dieci mila anni fa sì che nella città possiamo scambiare idee possiamo scambare incontrarci scambiare idee come dicevamo essere più di ciascuno di noi da solo questa forza si è dimostrata ancora una volta più forte di qualsiasi calamità e in questo quadro la grande città presenta in un qualche modo un di più in termini di catalizzazione dei processi e questo come convive invece con le problematiche legate alla congestione all'inquinamento ma il tema poi ecco allora poi il tema della città della città grande città piccola delle metropoli della città policentrica o monocentri insomma poi ci sono tutta una serie di temi e sono temi molto importanti direi due cose interessanti la prima quando guardiamo la taglia delle città c'è una legge molto regolare matematica molto regolare si chiama legge di zip che fa vedere che in tutti i paesi del mondo e anche in oggi così come in passato in vari periodi storici se noi prendiamo tutte le città e lo riteniamo la più grande la più piccola questo seguo sempre la stessa distribuzione che la cosiddetta legge di zip è molto interessante è molto interessante c'è un articolo molto bello di paul krugman che vinse qualche anno fa il premio nobel come sappiamo in economia per i suoi studi sull'economia spaziale anche sulle città c'è questo articolo che lui fece credo ormai oltre vent'anni fa in cui diceva ecco la legge di zip di solito noi economisti veniamo accusati di avere modelli un po semplificati e semplicistici di una realtà molto complessa nel caso legge di zip invece abbiamo una legge semplicissima e non abbiamo non sappiamo come spiegarla neanche con modelli molto complessi quindi in parte dicendo questo legge zip appunto è molto semplice e molto universale questo cosa vuol dire adesso possiamo parlare più in dettaglio da vent'anni fa quando scrive a krugman sono state proposte alcune possibili spiegazioni scientifiche dietro che potrebbero star dietro questa distribuzione maltematica molto precisa ma il l'aspetto l'aspetto interessante quello che questo ci dice che con i noi paese e noi continente anche in periodi storici diversi il rapporto tra città grandi città piccole è più o meno costante appunto tra la taglia nelle città seguo questa distribuzione ben precisa e questo si lega appunto quindi un po quindi un tema di cui dicevamo prima lo vediamo qua in emilia romagna appunto probabilmente non abbiamo mai fatto ma se facessimo anche la distribuzione di zip nelle città di emilia romagna vedremmo la stessa cosa bologna come città più grande e poi le altre che seguono sempre questa distribuzione il secondo punto a cui volevo fare riferimento è comunque quindi se questo è un tema abbastanza universale e che appunto valeva ai tempi delle città dell'impero romano dell'impero cinese su me vale anche ancora oggi ci sono però al tempo stesso di grandi cambiamenti all'interno della città e uno dei grandi cambiamenti è questo che viene definito la città che è sempre più policentrica soprattutto la metropoli che allargandosi ingloba centri diversi oppure della città pensiamo a Parigi che crea un centro nuovo come la Défense che diventa il centro il quartiere direzionale della città con i suoi grattacieli e quindi che appunto crea una più soltanto un'unica centralità come la città originale siamo la città medievale o insomma come ancora molte città italiane ma diventa una città policentrica e oltre alla città policentrica c'è questa nuova discussione oggi anche sulla città rete che è molto interessante e siccome si lega anche al territorio in cui siamo territorio dell'Emilia Romagna in Bologna eccetera perché io sono convinto che oggi questa regione in base a tantissimi indicatori è una delle più dinamiche in Italia, in Europa e anche nel mondo a seconda degli indicatori che prendiamo è una regione di città relativamente abbastanza piccole anche in Bologna come capoluogo regionale non è una grande metropoli ma quando le mettiamo insieme tutte a rete, una rete ormai molto rapida grazie anche all'alta velocità quindi le colleghiamo a rete e facciamo il modo che sia molto facile andare dall'una all'altra ecco allora che tutte queste città della città rete diventano come una grande metropoli internazionale quindi riescono a giocare nel mondo un altro campionato non il campionato della cittadina ma il campionato della grande città ecco grazie questo ci dà modo di collegarci a quello che è uno dei temi di lungo periodo della sua riflessione ovvero il concetto di smart city allora io intanto le chiederei quali sono gli elementi che l'hanno portata anche a cognare il termine sensible city rispetto appunto a quello di smart city quindi qual è l'accentuazione diversa che c'è in questo e dall'altro quali sono diciamo nelle città che lei ha raccontato in urbanità i casi che ci raccontano quelle che sono le trasformazioni attuali di questo modello sì ma allora per quanto riguarda il nome smart city e il nome sensible city beh a me non è mai piaciuto il nome smart city e il motivo è che smart city dà l'idea molto di una città che è proprio controllata la tecnologia è una città in cui la tecnologia viene messa al centro però invece come sappiamo Shakespeare diceva what is the city but the people? cosa è una città se non le persone? quindi l'enfasi deve essere invece proprio su come la città permetta a tutti noi di vivere insieme e quindi per questo sensible che poi in inglese è una duplice accezione able to sense and sensible quindi potremmo dire in italiano una città sensibile e capace di sentire ci sembrava un nome più adatto a queste trasformazioni proprio semplicemente una questione di enfasi mettere l'enfasi più sull'aspetto umano e meno sull'aspetto tecnologico detto questo i temi che stanno dietro alla smart city o alla sensible city cosa vogliono dire? poi vogliono dire qualcosa di molto semplice solo che oggi con i dati riusciamo a scoprire dimensioni di una città che non avremmo cominciato a leggere 5, 10, 20 o 30 anni fa e quindi questa maggior conoscenza vuol dire puoi poter progettare meglio la città o anche viverla in modo diverso quindi alla fine poi il tema è questo è un tema umanistico perché alla fine vuol dire appunto come possiamo vivere tutti noi meglio all'interno degli spazi urbani ed è quello che si lega alla grande trasformazione di quest'anno compresa la trasformazione del covid che ha fatto vedere covid è stato un grande esperimento collettivo se vogliamo di smart o sensible city in cui in pochissimo tempo abbiamo dovuto ripensare tanti processi abbiamo dovuto utilizzare il digitale e i dati per cambiare il modo di lavorare di ottenere il cibo, di incontrare gli amici, di comunicare in modi diversi di creare, di fare sistema, di creare comunità insomma e tutto, o di rispondere a un'emergenza e quindi se vogliamo ecco la smart city non è qualcosa di esogeno che sta dal di fuori la smart city è quello che già viviamo tutti i giorni vuol dire semplicemente una città dove grazie ai dati riusciamo a capire meglio l'ambiente che ci circonda ecco questo si lega anche al tema della partecipazione che è un tema che ricorre anche in alcuni dei casi che vengono analizzati nel libro e come si fa in un qualche modo a costruire diciamo sia nel caso della smart city ma anche più in generale nei processi di innovazione urbana un'idea di trasformazione che coinvolga in un qualche modo anche gli abitanti che come lei diceva sono diciamo l'essenza, la vita della città appunto la civitas contraposta alla urbs sì, è molto vero questo è molto vero nel senso che i temi della partecipazione sono dei temi tradizionali in architettura tra l'altro la partecipazione era al centro del dibattito architettonico urbanistico negli anni 60-70 ma se andiamo a leggere la letteratura di quel tempo ecco vediamo che uno dei grandi problemi nella partecipazione era proprio quello della rete di capire chi portare attorno al tavolo come portarli attorno al tavolo ecco oggi nell'epoca delle reti chiaramente tutto questo si può affrontare in modo diverso e quindi la rete stessa, la rete digitale diventa un modo per permettere dinamiche di partecipazione che magari erano in qualche modo sognate negli anni 50, 60, 70 che oggi possono diventare realtà proprio grazie a questi nuovi strumenti insomma la rete c'è un momento molto bello in un libro di Christopher Alexander Christopher Alexander fu un grande teorico dell'architettura partecipata dell'architettura dal basso eccetera scrisse un libro che si chiama The Oregon Experiment in cui cercò di sviluppare tutto il nuovo campus dell'università dell'Oregon appunto coinvolgendo tutti gli stakeholder a partire dagli studenti e dai professori e comunque in questo libro c'è una piccola paragrafa che dice sì insomma tutto questo va bene teoricamente molto interessante abbiamo un sacco di film vedo tutti però è un processo difficile a un certo punto dice anche nel momento in cui mettiamo più di 15 persone attorno a un tavolo è un casino ecco allora oggi con la rete possiamo mettere non 15 ma 150, 1500, 15.000 o 15 milioni di persone attorno allo stesso tavolo e condividere le stesse informazioni quindi in qualche modo la rete ci permette di nuovo di prendere dei temi che erano temi importanti dell'urbanistica del passato ma trasformarli renderli attuali e presenti può dirci anche se il suo nuovo libro in uscita toccherà in un qualche modo dei temi affini alla discussione che stiamo facendo in questo momento? Assolutamente il libro in uscita esce in inglese per adesso esce da Yale University Press come quello precedente sulla città di domani The City of Tomorrow in questo caso il titolo è Atlas or the Sensible City una piccola premessa soltanto ecco allora quello che noi facciamo all'MIT al Sensible City quello che facciamo con Carlo Ratti Associati quello che facciamo con alcune le start-up che sono nate da entrambi insomma l'ecosistema oggi di un migliaio di persone che si concentrano su cose diverse sulla ricerca, sul progetto, sul prodotto eccetera però tutto è tenuto insieme proprio da quest'idea di cercare di ripensare un po' l'interazione tra noi l'ambiente fisico che ci circonda quindi questo vuol dire che anche questo libro Keishe tratta di temi molto simili in questo caso concentrandosi su un aspetto legato ai dati prima parlavamo di dati che ci permettono di capire la città in modo diverso ma legato ai dati che è la mappatura dei dati le mappe sono l'unico modo in cui oggi il cittadino può in qualche modo interfacciarsi con la smart o sensible city noi non possiamo a differenza di intelligenza artificiale che l'intelligenza artificiale può possiamo nutrirla con terabyte e terabyte di dati e gli algoritmi cercano di estrarre senso a questi dati ecco con noi non funziona in questo modo non possiamo non possiamo in qualche modo inalare una quantità di dati grezzi come fanno i sistemi di intelligenza artificiale quello che possiamo fare è però invece andare a interagire con un sistema di trattamento strutturato di dati che è proprio il sistema delle mappe e allora le mappe che le mappe usate all'umanità fin dagli inizi proprio per confrontarci come dicevamo come interfaccia verso il mondo fisico esterno oggi possono assumere un nuovo rilievo proprio nella città piena di dati e sono in qualche modo qualcosa di profondamente umano ed unico e qualcosa che l'intelligenza artificiale non riesce a fare pensiamo quando ci sono quei piccoli giochini quando il nostro computer ci chiede il nostro laptop ci chiede vuole essere sicuro che ci sia dall'altra parte una persona e non appunto un bot e di solito sono cose simili alle mappe in cui bisogna prendere un pezzettino di un'immagine con una qualche semantica e andarlo a identificare ecco questa semantica perché parte dai dati che si applica allo spazio esterno è qualcosa di profondamente umano ed è la nostra interfaccia verso la nuova città ecco grazie tornando a urbanità uno dei temi che emerge in vari punti del libro sono diciamo i limiti delle città pensate se vogliamo o pianificate dall'alto e anche diciamo le difficoltà che si incontrano quando incontriamo delle funzioni urbane rigidamente distinte ecco può approfondire un po' questo punto? sì certo beh questo ad esempio nasce dal nostro lavoro su Brasilia Brasilia appunto città pianificata a tavolino città pianificata dall'alto la capitale del Brasile è costruita ormai una cinquantina da anni fa una città bellissima quando guardiamo i disegni una città bellissima una città che ha la forma di un aeroplano oppure di un uccello con le ali spiegate in una zona molto bella in questo paesaggio brasiliano del Serrado vicino a un grande lago eppure una città che poi nella vita tutti i giorni non funziona bene e noi ci siamo confortati con Brasilia in tante occasioni prima chiaramente occasioni più di studio di questa città che è comunque una città icona dell'architettura del secolo passato ma poi anche perché recentemente abbiamo avuto l'incarico di progettare una delle più grandi estensioni del master plan originale di Brasilia per quello che sarà tutto un nuovo quartiere una zona legata tra l'altro anche innovazione residenze e residenze innovazione quindi un quartiere di innovazione che è un po' un tema su cui abbiamo lavorato molto anche in Italia con Mind Milano Innovation District l'estito di Expo in altre parti del mondo comunque lavorando su questo ecco questo da qui partire questa riflessione su Brasiglia su quello che sta succedendo ricordo anche una bellissima battuta di uno delle persone dell'amministrazione comunale di Brasilia incontrate all'inizio proprio nella visita alla città diceva sai cosa c'è il grande problema di questa città è che il distretto del Cappuccino è lontano dal distretto dello Zucchero e il punto era una battuta per dire che è una città come tutte le città progettate sull'onda del movimento moderno in cui tutte le funzioni sono molto divise ad esempio a Brasilia c'è una zona dedicata agli hotel all'ospitalità ma quel quartiere è il quartiere più noioso che posso immaginare perché chiaramente è un quartiere dove la gente va solo a dormire con questi hotel anche belli insomma lo passa la notte e poi durante il giorno è un'altra parte quindi il quartiere è completamente vuoto così come sono altre parti solo direzionali eccetera quindi l'idea di monofunzione è uno dei grandi limiti dell'urbanistica del secolo passato e oggi in parte superata con l'idea di mixed use development ma qual è la soluzione poi vera? La soluzione vera è proprio la crescita organica è proprio fare in modo che la città nasca che la città non solo la città fisica ma la programmazione della città nasca dall'interazione di tutte quelle forze dal basso che fanno sì che poi si crea un ecosistema molto ricco e che funziona tra l'altro pensando a prima abbiamo citato velocemente Christopher Alexander Christopher Alexander un grande studioso appunto che negli anni 60 si interessa di partecipazione scrive un articolo molto breve molto divertente che dice a city is not a tree una città non è un albero e lì lui parla di un albero non un albero naturale ma di un albero un albero come diagramma ecco il diagramma l'albero come diagramma come si chiama il diagramma e l'albero sono quelli in cui tutto è messo in un sinus in verticali che sono separati ecco questa è la grande tragedia della città pro città da tavolino e la città del novecento e questo è quello che possiamo risolvere proprio dando più spazio a quelle dinamiche dal basso di programmazione e anche di costruzione ecco può farci qualche esempio particolarmente significativo tra quelli appunto che analizza nel libro per capire per capire appunto le trasformazioni a cui le città stanno andando in conto le trasformazioni sono molteplici è il libro in alcuna pretesa di essere esaustivo perché è un libro che parte appunto da una serie di viaggi di esperienze personali quindi viaggi che ho fatto in varie città ma i temi sono anche molto più armi quello che viene fuori però è un po' un credioscopio anche se noi guardiamo questi nuovi temi della città della smart sensible city della città sensibile viene declinata in maniera diversa abbiamo città come Singapore che oggi sta puntando moltissimo sulla mobilità abbiamo città come Copenaghen che sta puntando molto sulla sostenibilità Boston che invece si concentra sulla partecipazione dei cittadini Milano che invece lavora su come le nuotecnologie permettono di portare più natura nel centro storico e proprio nel cuore della metropoli insomma sono tutti angoli diversi e quindi potremmo dire questo lo scrivo un po' all'inizio che da questi frammenti viene fuori un buon calidoscopio della città contemporanea e dei suoi problemi quello che mi ricordava l'esercizio è un po' simile a quello che fece Georges Perec Georges Perec è il grande scrittore francese del secolo passato che a un certo punto cerca si mette a descrivere un libro bellissimo e speste spas specie di spazi si mette a descrivere l'appartamento ideale di Parigi e dice ma il mio appartamento ideale è quello che ha una stanza che si affaccia su un quartiere ad esempio la cucina che si affaccia sulle hall dove c'erano i mercati generali e la stanza da letto se non sbaglio che si affaccia sul Parc de Montsouris o Parc Monceau questo che si affaccia qui in la Parigi quindi un qualcosa in cui ogni stanza di questo appartamento ideale si affaccia su una quartiera diverso di Parigi e che in qualche modo ogni città di urbanità è un pezzetto di questo calendoscoppio che però nel suo complesso mette insieme alcuni non tutti ma alcuni temi importanti dell'urbanistica contemporanea ecco grazie grazie a Carlo Ratti per questa panoramica che ci ha dato l'idea appunto di come questo libro unendo in un qualche modo esperienza personale attività professionale ricerca scientifica ci offra una panoramica diciamo sui cambiamenti di un oggetto come la città che sicuramente sta attraversando trasformazioni profondissime ma che al tempo stesso sembra continuare ad avere un ruolo centrale e probabilmente continuerà ad averlo anche in futuro io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata dei dialoghi di Pandora Rivista grazie per aver guardato questo video se volete approfondire questo ed altri temi oltre ad iscrivervi al canale potete abbonarvi alla versione cartaccia di Pandora Rivista tra uscite l'anno con un argomento diverso ogni volta per capire più in profondità le grandi trasformazioni del nostro tempo grazie a tutti grazie a tutti